capitolo secondo il teatro ducale di milano nel 1750 musica ballo costumi pittura è dunque la fine del carnevale dell'anno 1750 e ci troviamo nella platea del reggio ducal teatro di milano mancano pochi momenti alle due di notte le otto dell'odierno orario le sedie della platea sono tutte quante occupate il semicerchio che corre dall'ultima fila delle sedie alla porta d'ingresso è affollato al davanzale dei palchetti si affacciano dame e cavalieri e succede in una parola tutto quello che avviene anche oggi dì in quei dieci minuti che precedono l'incominciamento di uno spettacolo nei nostri teatri ma se in un teatro e in un pubblico sono perpetue alcune abitudini non per questo si confidi un pittore di poter ritrarre lo spettacolo di quella sera regolandosi con quello che vediamo oggi il teatro ducale meno ampio del teatro carcano con quattro ordini di palchi era sovraccarico d'ornamenti barocchi volute in oro e vermicelli e ghiri gori e nastri con le indispensabili maschere della tragedia e della commedia l'una trapassata in un occhio dal pugnale di melpomene l'altra con la bocca sghignazzante piegata in arco il velario è un febo in quadriga a cui si attraversa diana con le bianche sue cerve forse a significare la lotta in cui è impegnata la notte per tener lontano il giorno il tutto nello stile di un allievo di tiepolo che abbia l'immaginazione e il colore e la pratica e i vizi del maestro insieme al manierismo e dagli svolazzi del cavalier d'arpino il sipario rappresenta la primavera trionfante sopra le altre stagioni e coronata da minerva bel lavoro dei fratelli galliari che oggi farebbe arrossire i nostri contemporanei della tolleranza onde lasciano che tutti i sipari dei teatri in milano offrono ai forestieri la più misera idea delle arti nostre ma se un amante della pittura poteva congratularsi con quel sipario un amante della luce doveva protestare contro il nebuloso crepuscolo che avvolgeva tutto il teatro non vera lumiera che pendesse dal velario qualche luce soltanto usciva dall'interno dei palchetti tutti messi sforzosamente e prima che comparissero i ventiquattro becchi di fiamma al luogo della ribalta gettavano intorno un poco di albore le candelette che alcuni seduti in platea tenevano fra mano per leggere il libretto dell'opera l'abitudine a quelle mezze tenebre aveva però avvezzate le pupille del frequentatore del teatro a vedere e ad osservare tutta la sala era piena sui rossi i verdi gialli gli azzurri e tutta la varietà delle gradazioni di questi colori il fiordaliso il pistacchio il vigonia il tortorella l'isabella il tanè il testa di pavone eccetera onde in qualche modo aiutavano la poca luce le giubbe le marsine i gilet dei messeri buongustai dell'opera adagiati in platea si distendeva uno strato tutto bianco ed era la polvere di cipro di quelle 600 parrucche di varia foggia e come allora dicevasi costrutte alla reggenza a tre martelli alla circostanza se da questa nevicata che copriva tanta varietà di colori si alzavano gli sguardi ai palchetti il quadro si faceva ancora più stranamente pittorico era il tempo in cui le pettinature femminili che già avevano cominciato a rialzarsi sotto alla reggenza si spingevano a tale altezza che bene spesso una testa cessava di essere la settima parte del corpo umano la contessa marliani bellissima ed elegantissima fra le eleganti di milano quando comparve al suo palchetto in second ordine vicino al proscenio mise in mostra una pettinatura che dalle tempia si alzava quasi un braccio allargandosi come una piramide capovolta sulla piatta superficie della quale erano fiori e frutti e due tortore imbalsamate che si beccavano gentilmente codesta acconciatura veniva denominata il puff di sentimento e se in quella sera il puff della bella contessa marliani superava tutti gli altri puff la gara aveva generata una tale varietà negli oggetti accumulati su di essi che sarebbe soverchio tenerci dietro con la descrizione pappagalli aeroni uccelli di paradiso foglie e fiori e frutti disposti in modo che una testa pareva un capitello corinzio le quali mode se piacevano alla maggior parte tanto che venivano seguite ansiosamente non per questo cessavano di far ridere gli uomini di gusto e quegli altri che ridono anche delle cose serie che ve ne pare delle nostre milanesi diceva un giovinotto con la sua bianca parrucca ad ala di piccione ad un altro che gli rispondeva in dialetto veneziano non sono né più belle né più pazze delle veneziane ma chi è quella dama la che porta l'appassionata l'appassionata era una delle tante denominazioni che si davano alle mosche e ai nei onde le gentildonne facevano quel che si direbbe la loro professione di fede l'appassionata era la mosca che si portava all'angolo dell'occhio la sfrontata quella che stava sul naso la civetta al labbro la galante alla pozzetta l'assassina all'angolo della bocca e chi o davvero o per bizzarria voleva o intendeva di avere le qualità morali rispondenti a quegli aggettivi portava una di queste mosche come un tempo i cavalieri erranti recavano i motti sugli scudi il più delle volte però non erano che simulazioni onde chi avrebbe dovuto aver l'assassina portava l'appassionata e sempre poi quelle gentildonne cangiavano posto alle mosche onde tutte quante in una stagione riuscivano e passionate e galanti e civette sfrontate e assassine ma quei due tenendo fissi gli occhi in quella che recava all'occhio l'appassionata e continuando un discorso incominciato colei è una delle nostre più infocate dilettanti di musica del resto non va bella signorina in italia la quale nel ricevere la visita di un giovane cavaliere dopo aver fatto pompa delle sue grazie non passi al cembalo a cantare una rietta per rendersi più amabile quella dama l'ade l'appassionata pigliò molti alla rete cantando la rietta se tutti i mali miei ed è così bizzarra che quando di recente gli fu presentato un giovanotto per essere il suo cavalier servente così lo interrogò sulle qualità che lo dovevano far degno di quel posto signore sapete la musica no quegli rispose ebbene ripigliò la dama andate ad impararla e poi venite a ritrovarmi la musica nel mondo galante è divenuta indispensabile senza di essa un amante corre sovente pericolo di cadere in disperazione per non essere innistato di cantare una rietta e quel cavalierino che ora siedere in petto a colei fu respinto più volte dalla crudele ed egli sarebbe morto se non avesse imparato a memoria quell'aria del buranello a che nel dirti addio cara morirmi sento che gli salvò la vita e così pressa poco fan tutte e qui cangiando discorso il giovan di milano nominò a quel di venezia tutte le principali beltà che in quella sera mostravansi al palchetto la marchesa serbelloni con puff a nastri azzurri la marchesa dadda con puff ad airone la marchesa litta con puff a capitello corinzio la contessa del grillo senza puff ma con un sistema di riccioni altissimo e intrecciato con dieci braccia di nastro e la contessa verri e la marchesa beccaria tutte insomma le arcavole delle nostre più distinte patrizie ma già i suonatori incipriati anch'essi erano tutti al loro posto in numero di 30 e il primo violino signor belletti aveva dato un primo colpo d'archetto il maestro galuppi soprannominato il buranello il quale era il compositore della semiramide riconosciuta stava già alla sua spinetta in tutto quello sfarzo di vestito che era la caricatura di tutte le caricature che si trovavano in teatro seduto tra il contrabbasso e il violoncello aveva dietro di sé due viole da gamba strumento suavissimo che scomparve per dar luogo alle catube ai bombardoni ai serpenti ai pelittoni e a tutto il parco di artiglieria della musica di oggi di e sedevano innanzi a lui due suonatori di flutte due di oboe due di corni il resto erano contrabbassi viole e violini quando il maestro galuppi comparve alla spinetta costui è il sopracciò di tutte le case di milano disse uno dei suddetti interlocutori chi vuol farsi d'accosto a qualche dama non dè che appigliarsi alle grandi falde quadrate della sua marsina ed è tosto introdotto come compositore va al più del nostro lampugnani suo collega concertatore il quale è un buon ambrosiano e un forte contrapuntista ma quando non assorda fa dormire cotesto buranello invece compone con molta arte va in traccia dell'espressione e la trova tuttavia se la sua musica è la scuola dei professori ne guasterà molti perché ha troppi passi pericolosi e conviene essere eccellentissimo nell'arte per collocarli a proposito come egli ha saputo fare in questa si alzò al sipario e si mostrò allo spettatore un gran portico del palazzo reale di Babilonia corrispondente alle sponde delle eufrate lavoro di quei fratelli fabrizio e bernardino galliari che furono i primi fondatori della nostra scuola scenica che recaron poscia oltremonte essi non conoscendo tutti gli stili architettonici e non avendo erudizione archeologica applicavano il greco romano dappertutto in Babilonia, a Menfi, alla Cina ma avevano una tal pratica nella prospettiva e una così sterminata immaginazione nel costrutto architettonico e nella combinazione delle linee e dei contrapposti degli interrompimenti delle fughe che lo spettatore ne rimaneva abbagliato e anche oggi ne sentirebbe meraviglia le scene poi a quel tempo raggiungevano il più completo effetto perché la quasi oscurità della platea concedeva tutto lo splendore al palcoscenico e la ribalta non ancora traboccante di fiamme che le lucerne ad Argod si dintrussero posteriormente permetteva che la distribuzione della luce si facesse nel modo più conveniente e più proporzionato alle leggi prospettiche ma lasciando ora i pittori galliari e la scenografia dopo la comparsa del palazzo reale di Babilonia comparve Semiramide tra gli applausi del pubblico Semiramide in abito virile, sotto nome di Nino ed era la virtuosa signora Cassarini che cantò il recitativo o la sappia Tamiri con quel che segue dopo del quale venne fuori Sibari o la seconda donna signora Ghiringhella e lì si impegnava un lungo recitativo intercalato di guaiti di violoncelli e viole sino al punto che Semiramide con solenne portamento di voce diceva alla seconda donna Taccheta, ecco Tamiri e usciva Tamiri ossia la signora Giuditta Fabiani-Chabra e quando dopo alquante parole di complimento Semiramide sassideva in trono in mezzo a Tamiri e a Sibari e una guardia recavasi sul ponte a chiamare i principi rivali tosto preceduti dal suono di strumenti barbarici passavano il ponte Minteo, Scitalce e Ircano allorché questi si mostrò successe un movimento nel teatro come quando il vento investe una selva e scoppiò di poi un applauso strepitoso e unisono che pareva fuoco di plotone fatto da un reggimento di veterani l'opera nel complesso annoiava anziché no che il pubblico aveva ancora nelle orecchie l'Olimpiade di Pergolese e l'Artaserse di Scarlatti rappresentate poco tempo prima e non era pago gran fatto né della Casserini né della Chabra perché esso ricordavasi troppo della voce stupenda della Turcotti della grazia della Schieri e del prodigio della Tesi che commoveva irresistibilmente al pianto e della suavità della Guiari che veniva chiamata il rossignuolo della scena però essendo inferiori le prime donne di quella stagione alle altre che aveva già sentite il pubblico si rivolse al nuovo sole che era Ircano ovvero il tenore amorevoli l'occulta passione delle donne applaudito al suo primo camparire fece fremere d'entusiasmo la platea ad ogni emissione di voce ma il segreto di mettere in pericolo la mente sana degli spettatori se lo serbò all'aria maggior follia non vè che per godere un di questa soffrir così legge Tiranna alle cadenze di questa cabaletta il teatro parve dividersi in due per lo scoppio degli applausi vengano ora i musici gridava un giovinotto or che finalmente questo amorevoli canta come un uomo e non come una donna il tenore amorevoli di fatto fu il primo che per l'ineffabile dolcezza ad una voce naturale e per il gusto squisitissimo del suo canto fece sperare che col tempo si potesse far senza dei musici ma così non la pensavano i vecchi uno dei quali diceva indispettito tutto va bene ma bisognava sentire Carestini a cantare quest'aria egli aveva gli estremi dei bassi e degli acuti tanto che il Ciardini tenore disse che voleva farsi evirare per poter cantare il basso come lui e dove lasciate Caffariello diceva un altro che portava ancora la parrucca a Riccioni giammai uomo mortale spinse così lungi l'audacia del canto e Bernacchi il patetico e dove lasciate Egiziello il grande l'unico Egiziello il re dell'espressione fu egli che nell'opera Artaserse fece piangere tutta Roma per questo solo accento eppur sono innocente e dopo lui guadagni e Salimbeni e Monticelli e Reginelli e Garducci e Lelisi se il men valoroso di Costoro fosse qui codesto amorevoli non piacerebbe né poco né assai intanto si compiaccia a sentirlo per forza non c'è altri e l'opera continuò e amorevoli dalla voce piena di fascino e dall'aspetto bellissimo fu chiamato sei volte al proscegno dopo che con un'espressione e un ardore indicibile ebbe cantato quell'aria con cui finisce l'atto primo e impio fato semo prime seguirà le mie ruine chi superbo mi contende la beltà che mi piegò le ultime due volte che amorevoli uscì tenne fisso lo sguardo ad un palchetto nessuno però se ne accorse né prese informazione di quell'atto solo il gentiluomo veneziano che teneva dietro alle beltà lombarde guidato macchinalmente da quello sguardo ad osservare egli pure il palchetto chiese all'amico che gli serviva di interprete chi è quella bellissima dama là al numero 4 del secondo ordine bellissima se avesse imparato a sorridere e se ricevesse la grazia della bontà quella è la contessa Cleglia V odiata dalle donne ed anche dagli uomini odiata sì odiata sai il latino il greco e la matematica e dall'alto del suo tripode ci guarda tutti come una divinità sdegnata mentre il cavalier servente è dovunque un mobile di casa ed è adottato da chi lo considera come un'imposizione della moda e nulla più ella non ha mai patito d'averne uno la natura le ha messo il cuore in ghiaccio per preservarlo dalle infiammazioni ha marito altro che marito vedetelo là nel palco di rimpetto è un ex colonnello di cavalleria fatto con sangue di spagna e con sangue lombardo nubilissimo e ricchissimo ma serio come un cavaliere del tempo del Cid sposò la sapienza perché s'accorse che la grazia lo avrebbe fatto diventare geloso come il moro di Venezia